Verrà giudicato con rito abbreviato Braulio Pavel Martinez, il 33enne domenicano accusato dell'omicidio di Joel Ramirez Seipo. Questa mattina al Tribunale di Arezzo si è infatti svolta l'udienza preliminare. Abbiamo fatta questa richiesta sulla base di valutazioni tecniche che abbiamo fatto fare, che abbiamo commissionato a dei tecnici periti e il giudice ha accolto la nostra richiesta. Il 33enne ormai da nove mesi è rinchiuso nel carcere di Perugia con l'accusa di omicidio volontario per aver scagliato un arghile contro il connazionale nel mezzo di una rissa fuori da una discoteca di Terra Nuova Bracciolini. Un frammento lo colpì in piena la vena giugolare provocando una grossa fuoriuscita di sangue fino a causarne la morte. Era il primo ottobre del 2023. Tutto abbreviato e condizionato da delle consulenze, di che consulenze si tratta? Una consulenza tecnico-balistica che riguarda la dinamica di questo tragico fatto e una valutazione medico-legale. La difesa puntava anche ad alleggerire il capo di imputazione a domicidio preterintenzionale. È uno degli aspetti su cui ci batteremo e valuteremo anche sulla base delle consulenze che abbiamo prodotto. I familiari della vittima si sono già costituiti parte civile. Di là della speranza di avere un ristoro economico che ovviamente non si sa se avrà luogo, quantomeno garantisce loro di partecipare attivamente ad un giudizio che si spera possa in qualche modo portare una verità sulla morte comunque di colui che era padre, fratello e figlio. È perfettamente conscio di quello che lui ha cagionato, tanto che oggi abbiamo prodotto una lettera manoscritta alle parti offese con la quale appunto chiede perdono. La prossima udienza in programma per il 23 settembre si tornerà poi in aula il 15 ottobre.